Buonasera e ben ritrovati appuntamento del lunedì sera con direttanti per dire. In questa puntata, dopo che non è discorso, abbiamo avuto il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella, abbiamo ospite Andrea Fortis, uno degli uomini forti della dirigenza della Verbagna, a quale chiediamo subito come sta vivendo questa quarantena prolungata, questa assenza di calcio giocato e quanto è penalizzante per una società come il Verbagna. Buonasera Daniele, buonasera ai tuoi ascoltatori, grazie per avermi invitato. Come sto vivendo questo momento di quarantena? Innanzitutto con grande ammirazione e gratitudine nei confronti dei medici, infermieri, protezione civile, volontari che stanno dimostrando come questo paese sappia ancora essere altruista e generoso e sappia unirsi nei momenti di difficoltà. Quindi è bello vedere, nonostante i pericoli, nonostante tutte le cose che noi conosciamo, vedere quante persone in questo momento si stanno dedicando al prossimo senza guardare ai pericoli che stanno correndo. Poi il secondo pensiero va sicuramente ai sindaci di tutti i paesi che hanno approntato tutte le misure necessarie a cercare di ridurre il più possibile il disagio della popolazione, principalmente delle persone anziane che hanno più difficoltà a muoversi anche solo per fare la spesa, per prendere i medicinali. Quindi quindi vedere come tante iniziative sono state organizzate e tante cose sono state fatte proprio per andare incontro alle esigenze quotidiane di tutti. Poi ovviamente da padre e da figlio c'è la preoccupazione per i nostri cari, per chi ci è più vicino, perché ci si augura che possa stare lontano da questo male o eventualmente prenderlo in maniera molto leggera. Purtroppo è un problema che ha toccato tutti questa pandemia, chi in maniera più dura, chi più da vicino, chi in maniera un po' più di staccata, però credo che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano quelli che sono gli effetti di questa pandemia. Il calcio oggettivamente è arrivato dopo, o quantomeno viene dopo. Il campionato a un certo punto è stato sospeso e credo che tutti, da un lato, soprattutto noi che siamo stati toccati con il nostro tesserato che ha avuto questo problema, preoccuparci quantomeno di cercare di salvaguardare la salute dei nostri ragazzi. Ora stanno tutti bene, non ho notizie recenti di problemi di questo genere, però c'è stata soprattutto nella verbania una grande preoccupazione. Sì, è vero, magari ci manca la partita domenicale, ma in questo momento la nostra testa, i nostri sforzi, i nostri pensieri sono oggettivamente rivolti ad altro, quindi stiamo cercando come tutti di fare questo sforzo di isolamento, voglio per aiutare a sconfiggere questa pandemia. Andrea, in questo momento si fanno tante ipotesi, c'è una ridda di voci, ci sono società, soprattutto lombarde, che hanno già mandato mail e richieste ufficiali alla federazione per chiedere che si sospenda definitivamente il campionato. Ti chiedo qual è la posizione ufficiale da parte della verbania calcio in merito. Daniele, mi hai fatto una domanda scivolosa, perché non è semplice rispondere, io non so se altre società si siano già fatte avanti con la federazione per fare delle richieste, avere delle indicazioni, o quantomeno so che c'è un grande fermento dall'eccellenza a scendere, ci sono tanti presidenti che non vogliono riprendere i campionati. Condivido la loro preoccupazione, nel senso che riprendere i campionati lo si potrà fare solo quando ci sarà l'assoluta certezza che la pandemia sia terminata, che si possa uscire e tornare ai campi di calcio in sicurezza. Non voglio immaginare una conclusione della stagione a porte chiuse, perché sarebbe mortificare quello che deve essere un momento di gioia, di divertimento. Senza il pubblico il calcio non esiste, e quindi capisco nei campionati dove per necessità o interessi economici elevati si possa o sia necessario fare queste cose, non lo vedo nelle categorie dilettantistiche. La posizione del Vermania è difficile da esprimere, nel senso che la classifica che uno ha in questo momento ti condiziona nel dire qual è la cosa giusta da fare. Come sapete Vermania è penultimo in questo momento, ma ha una partita in meno. paradossalmente se dovesse vincere questa partita sarebbe la prima squadra a essere nel play out e quindi potrebbe giocare la partita di spareggio in casa contro la terza ultima. Noi non prendiamo una posizione rispetto a queste, non abbiamo particolari richieste da fare alla federazione. Chiediamo magari di essere ascoltati, di poter esprimere nelle sedi opportune quella che è la nostra opinione e chiediamo di poter portare il nostro modesto contributo. Fermo restando che accetteremo qualsiasi decisione venga presa, a condizione che secondo noi ci sia la possibilità di giocare in sicurezza e quindi preservando la salute dei nostri tesserati e eventualmente di chi potrà accedere alle partite. Il Verbagna al momento della sospensione del campionato era in penultima posizione, se non ricordo male, in piena lotta per la zona play out e anche con qualche speranza addirittura di conquistare la salvezza diretta. Ammesso e non concesso che arrivi la sospensione dei campionati, ti chiedo se voi ovviamente chiedete che la stagione venga gongelata, quindi se riparte il prossimo anno, nel 2020-2021, come se questo 2019-2020 dal punto di vista della stagione calcistica non ci fosse mai stato. Ma richiede la sospensione del campionato, l'ho già detto prima, non saremo noi a fare questa richiesta, accetteremo quella che sarà la proposta della federazione, anche perché in questo momento, secondo me, concentrare i nostri sforzi, la nostra attenzione sulla necessità di chiudere i campionati probabilmente è fuorviante rispetto a quello che è il vero pericolo del calcio dilettantistico, ma nello sport in generale. Non è semplice, non sarà semplice comunque sia trovare la formula per completare i campionati per tanti problemi e per tanti motivi di cui magari parlerò più tardi, ma a mio modesto avviso in questo momento bisogna cercare di capire come sarà possibile ripartire a settembre con i nuovi campionati. Il mondo è cambiato improvvisamente, alcuni dicono che dobbiamo paragonare questo momento a situazioni che si sono create quando ci sono state le grandi guerre e probabilmente hanno ragione. Quello che è stato vero fino a un mese fa non lo è più, gli equilibri, le dinamiche sono cambiate in maniera radicale. Quindi guardare o pensare o concentrare i propri sforzi nella direzione della chiusura dei campionati probabilmente in questo momento ci distoglie attenzione ed energie da quello che invece deve essere il nostro obiettivo, cioè cercare di ripartire a settembre, cosa che io vedo al momento effettivamente complicato e probabilmente il fatto di non concludere i campionati ci darebbe più tempo per riorganizzare le cose, ma per ripartire col piede giusto nella prossima stagione. Ecco, io questo penso sia il nodo centrale di quello che sarà il proseguo del calcio dilettantistico. Ecco, a voi l'emergenza coronavirus vi ha anche toccato in maniera diretta perché mister Luca Porco ha contratto il virus e tra l'altro ti chiediamo anche come sta, se si è ripreso anche se le notizie in tal senso erano abbastanza confortanti, anzi senza l'abbastanza erano confortanti. Quanto il coronavirus, tu che ti occupi anche di marketing, di sponsorizzazioni, può avere un effetto detonante in questa stagione con gli sponsor, con i mancati in cassa alla luce del bilancio e anche e soprattutto in vista del futuro? Beh, innanzitutto mi sento di tranquillizzare tutti sulle condizioni di Luca Porco con cui mi sento telefonicamente tutte le settimane. Lui sta bene, non ha più nessun sintomo, sta ovviamente aspettando che venga ufficializzata la sua guarigione con i famosi tamponi negativi che dovrà fare in questi giorni, però pensiamo che sia un problema assolutamente risolto e alle spalle e soprattutto siamo contenti che non ci sia stato nessun contagio tra il gruppo che lui gestisce. Che effetto ha avuto il coronavirus in questa stagione? Ha avuto un effetto devastante, devastante per motivi molto semplici. Noi siamo una società che vive prevalentemente di sponsorizzazioni e le sponsorizzazioni ci arrivano dal territorio e dal tessuto economico e imprenditoriale e della città di Verbagna e dintorni, che sappiamo tutti essere e ruotare intorno a questa bellezza dei luoghi che porta ad avere una ricettività turistica importante sia locale sia italiana che estera. Ovviamente questa situazione ha messo in grave difficoltà tutte le aziende che sostengono il Verbagna Calcio e quindi credo che in questo momento abbiano una priorità che è quella di pensare a come andare avanti, a come superare a questo momento le grandi difficoltà e non a sostenere il Verbagna, così pure come gli enti pubblici, il Comune credo che in questo momento sia un euro da spendere, lo spenda per alleviare la sofferenza dei propri cittadini e non possa pensare a sostenere in particolare lo sport e in particolare il calcio. Quindi è un mondo che è radicalmente cambiato nel giro di un mese. Come dicevo prima, dal punto di vista economico è impensabile poter concludere questa stagione perché non vedo come si possano avere i ricavi necessari per poterla completare e spero anche quando dovesse riprendere che non si dovesse decidere di giocare a porte chiuse perché poi noi sappiamo che sul bilancio del Verbagna il pubblico e quindi quello che arriva dalla vendita dei biglietti per le partite rappresenta una voce di ricavo che vale il 25% del nostro bilancio. Quindi pensare di doverne farne a meno per noi è impensabile. Quindi è un mondo che è cambiato, è un futuro che va rivisto anche nel pensare alle prossime stagioni che secondo me, ma non solo per il Verbagna, ma in generale per tutto il calcio dilettantistico, andranno riposizionate su basi economiche completamente diverse. Noi non potremo più pensare di garantire certi rimborsi spese, non potremo pensare probabilmente più di allenarci il pomeriggio ma dovremo tornare ad allenarci la sera per lasciare la possibilità ai nostri serati durante il giorno di avere un lavoro o comunque sia di dedicarsi a qualche attività che possa rappresentare una fonte di reddito. ma credo che per un paio d'anni il calcio che si è visto fino a febbraio non ci sarà più quantomeno a livello dilettantistico e per un paio di stagioni si dovrà tutti pensare e ragionare e mentalizzare sul fatto che le risorse per lo sport in generale e per il calcio in particolare sono drasticamente ridotte, saranno drasticamente ridotte, quindi va pensato e va immaginato un modo di fare calcio in maniera diversa e ci auguriamo che questi temi vengano compresi anche dalla federazione che possa a sua volta calibrare quelle che sono anche le spese per le iscrizioni, le gare, le trasferte, insomma tutto quello che ruota intorno al mondo calcio vada riposizionato su livelli economici completamente diversi. guardiamo adesso al futuro che è un po' quello che interessa i tifosi dell'Evervania partiamo da un dato, ti chiedo se già oggi sei in grado di tranquillizzare tutti l'ambiente bianco cerchiato e dire sì, l'Evervania il prossimo anno si iscriverà regolarmente alla Serie D se il campionato verrà bloccato e quindi l'Evervania potrà ripartire dalla Serie D o comunque se ci sarà un futuro visto che anche nel corso dell'anno avete lanciato diversi appelli per nuovi ingressi è chiaro che il coronavirus da questo punto di vista sicuramente ha distratto eventuali investitori eventuali persone interessate ad entrare nel Consiglio Direttivo dell'Evervania però un messaggio ai tifosi dell'Evervania, i tifosi dell'Evervania possono stare tranquilli? direi di sì, noi ce la sentiamo di tranquillizzare i tifosi, gli appassionati del verbagno calcio noi sicuramente ci adopereremo perché la squadra si iscriva al campionato anche la prossima stagione come dicevo prima, grande differenza la farà se si dovrà completare questa stagione o se ci verrà consentito di concentrarsi fin da subito nella pianificazione, nella programmazione nell'organizzazione della prossima stagione ma non vedo nessun elemento che mi possa far pensare e credere che il verbagno non si iscriverà alla prossima stagione il tema come ho già detto prima è proprio quello di avere che ci siano i tempi necessari per potersi organizzare, poter ripensare il modo di fare calcio in Serie D o in eccellenza adesso non so quali saranno le decisioni che prenderà la federazione rispetto alla chiusura dei campionati e qualora decidesse di chiuderli non so cosa decideranno per il verbagno che in questo momento sarebbe retrocesso ma voglio dire sia che la categoria sia la Serie D che sia l'eccellenza va ripensato a 360 gradi il modello organizzativo, vanno ripensate a 360 gradi la distribuzione delle risorse, va ripensato un po' tutto come dicevo in un'ottica completamente diversa secondo me almeno per un paio di stagioni io conosco la capacità dei nostri imprenditori locali so che saranno bravissimi una volta terminata questa pandemia nel riorganizzarsi nel ripartire con le loro aziende ma bisogna dare loro anche il tempo di poterlo fare e in questo periodo sappiamo e siamo consapevoli che non potremmo contare sul loro contributo, potremmo contare sul loro contributo assolutamente parziale quindi se saremo così bravi a riuscire a farlo potremmo pensare di guardare con serenità anche alla prossima stagione. E' proprio ancora attorno al discorso della dirigenza, del gruppo dirigente, degli sponsor è stata una stagione difficile fuori dal campo con tante dimissioni, qualche polemica, qualche diatribla in società, tu rimarrai in seno alla società, cosa farà Musso, cosa farà Nessi, cioè si ripartirà da questo gruppo dirigenziale per cercare di un nuovo progetto c'è il rischio che a luglio o magari anche a giugno si debba cercare un nuovo gruppo dirigente, un nuovo presidente, un nuovo direttore, cioè quale futuro realisticamente per il calcio tu intravedi anche dal tuo punto di vista personale, sei stato in diverse piazze, adesso sono due anni che sei a Verbagna, tu ti senti di dire io a settembre sarò a Verbagna? Sì è vero, è stata una stagione complicata con tante dimissioni, con tante cose che sono successe, non voglio star qui a ricordare, però tu hai usato una parola polemiche, io mi sento di dire che invece polemiche a Verbagna non ce ne sono mai state, insomma ci sono state delle incomprensioni, ci sono state delle scelte che il più delle volte noi abbiamo subito come Verbagna, ma non hanno mai dato origine a polemiche perché credo che non siamo una società che ama fare polemiche, anzi mi sento di dire che siamo una società che ha un grande gruppo dirigente, che proprio in questi momenti di grande difficoltà si è contraddistinto perché ha sempre saputo trovare le soluzioni per poter andare avanti e così anche sarà l'anno prossimo, io anche in passato ne ho parlato tante volte con Anessimus o con gli altri consiglieri, io credo che nessuno abbia intenzione di lasciare il Verbagna e quindi che tutti i continueremo anche nella prossima stagione, certo dobbiamo individuare un Presidente, io ho accettato di fare da traghettatore in questa stagione, viste le improvvise dimissioni del Presidente del Monaco, ma sicuramente non sarò il Presidente della prossima stagione, quindi tra le tante cose che dobbiamo fare c'è sicuramente anche questa, di individuare un Presidente, poi se sarà all'interno di questo Consiglio Direttivo sarà al di fuori, ancora non lo so, ci ho lavorato tanto, ci sono andato vicino qualche volta, ma non sono ancora riuscito a coinvolgere un nuovo Presidente. Comunque sia questo gruppo dirigente va avanti, va sicuramente avanti, lasciateci lavorare, speriamo che la Federazione ci metta in condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibile, sappiamo che sarà una stagione sicuramente complicata e difficile, la prossima per tutti i motivi che ho citato poc'anzi, però l'importante è avere il coraggio di andare avanti e noi questo coraggio ci sentiamo di averlo e quindi ci sentiamo di rassicurare i tifosi, chiediamo di esserci e di starci vicini come hanno sempre fatto in passato, anzi forse ancora un po' di più perché, come dicevo, un mondo che è cambiato, le difficoltà saranno tante, saranno grandi, ma non siamo gente che si arrende facilmente. Grazie a tutti!